Penso che il Sindaco Marino debba dimettersi. Il Partito Democratico debba evitare alla Capitale d'Italia la vergogna di un commissaramento per mafia nell'anno del grande giubileo straordinario e dell'esposizione universale di Milano dedicata oltretutto all'eccellenza agroalimentare italiana. Fratelli d'Italia, l'Alleanza Nazionale aveva denunciato già mesi fa il giro losco di affari che si annida intorno al fenomeno della gestione dell'accoglienza per immigrati e per nomadi.